Ciao da Valentina, oggi parliamo di come trovare un nuovo lavoro con LinkedIn. È possibile e soprattutto non dobbiamo fare l'errore più grande. L'errore più grande è cercare un lavoro che non ci piace. Se in questo momento stiamo facendo un lavoro che non ci piace, che senso ha scrivere sul nostro profilo che abbiamo delle attitudini a fare quella cosa lì? Magari abbiamo delle attitudini a fare un altro tipo di lavoro. Faccio un esempio. Non deve essere per forza un secondo lavoro che noi vogliamo sviluppare, ma potrebbe anche essere. Sul LinkedIn abbiamo un'opportunità. Se tu avessi l'opportunità di decidere in questo momento che tipo di lavoro fare, cosa scriveresti sul tuo profilo LinkedIn? Questa è la domanda. Questo non vuol dire che non dobbiamo citare i lavori che abbiamo fatto perché potrebbero sviare. Noi dobbiamo citare, ma dobbiamo scrivere bene, molto bene, quello che intendiamo fare, quello che ci piace fare. Quindi nel sommario e nel riepilogo noi dobbiamo evidenziare delle caratteristiche. Se non vogliamo far scoprire all'azienda in cui stiamo, che stiamo cercando lavoro, perché tanti sono in questa condizione, attiviamo l'area che vi linkerò in questo post per far sapere ai reclutatori che lo stiamo cercando, ma dobbiamo anche orientarli. Cioè dobbiamo dire in maniera latente che sì, adesso facciamo le fotocopie, ma in teoria noi abbiamo delle doti veramente sviluppate in team building oppure in risoluzione dei problemi, in modo che il selezionatore vede che magari adesso facciamo questa cosa qui, ma che stiamo esprimendo un desiderio, che è quello che poi porta magari a un'assunzione verso quel lavoro. Ok? Questa è la tecnica che io vi sto insegnando oggi, ma soprattutto è una scelta di vita. Se vogliamo cambiare lavoro dobbiamo cercare qualcosa che ci faccia stare bene, non lo stesso lavoro. Quindi se anche voi aderite a questo pensiero, commentate qui sotto, raccontatemi le vostre storie e poi visitate il mio sito bandilli.it dove troverete altre risorse e tutte le informazioni per la consulenza aziendale e ovviamente tutte le altre risorse invece legate a chi vuole fare un corso su LinkedIn oppure ottimizzare il proprio profilo. Bene, questo è tutto, io vi rimando al prossimo video. Ciao da Valentina!